Il protocollo di gestione oggi è forse l'unico strumento che l'azienda ha a disposizione per poter passivizzare i risultati che può ottenere dalle sue risorse. A base all'analisi dei suoi dati, delle marginalità, impostando delle strategie sempre più mirate. Soprattutto una cosa più bella è che si è creato un team motivato e quindi il protocollo di gestione diventa non più uno strumento di natura amministrativa ma di natura strategica. Questa è una delle poche possibilità che oggi ha l'azienda di essere competitiva ed essere vicente sul mercato. Quindi l'azienda oggi non può più permettersi il lusso di improvvisare, di avere una situazione economica e finanziaria sotto controllo e in base all'analisi dei suoi dati, delle marginalità, impostando delle strategie sempre più mirate. Più avanti scoprite le cose e più difficile diventa il sogno. Più avanti scoprite le cose e più difficile diventa il sogno.